Chi non lo è nemmeno per i bambini, infatti è una missione impossibile portare i figli all'asilo. Ecco la dimostrazione in un video realizzato da Stefano Soffiato di Venezia.com Più di un'ora per portare i figli all'asilo. In questo video, realizzato da Venezia.com, due mamme che si battono per poter iscrivere i figli alla struttura più vicino a casa, a Canaregio, dimostrano come sia quasi una missione impossibile raggiungere le altre scuole indicate dal comune. Con una giornata di pioggia, per esempio, arrivare a Sant'Elena è un incubo. Questo lo sfogo del comitato che chiede all'amministrazione un intervento concreto. Chiediamo il sostegno della città attraverso le vostre firme per far sentire la voce di mamme, di famiglie, di bambini che si ospirono ad abitare ancora a Venezia. Evitiamo di fare un altro passo verso il baracro dello spopolamento della città. Venezia non è una città per bambini, è anche...